Professor Fazzi, primo giorno di scuola, che cosa c'è da attendersi? Le raccomandazioni sono sempre le stesse, però c'è un pizzico di timore perché l'apertura delle scuole significa anche trasporti, significa presenza di ragazzi e genitori all'esterno degli istituti, quindi lei cosa si sente di dire oggi al suono della prima campanella? La raccomandazione principale per evitare di far circolare il virus è mantenere sempre la mascherina. Se io sono un soggetto Covid più e tengo la mascherina chirurgica ben indossata, il virus non lo faccio circolare. Al momento c'è ancora, parlo dell'Abruzzo, ma in generale dell'Italia, una situazione di bel tempo, sappiamo benissimo che con il caldo il virus circola pure meno, quindi diciamo meglio così, in quanto queste prime giornate, che sono sempre quelle più difficili da gestire per tutta una serie di motivi, potrebbero essere comunque delle giornate di prova, di rodaggio, in modo tale che quando forse il virus probabilmente circolerà di più, diciamo tutto il sistema magari è a regime. In base ai dati in vostro possesso, che autunno ci attende? Allora, attualmente la situazione è abbastanza tranquilla o relativamente tranquilla. Il problema è che con il freddo, lo sappiamo, il virus riesce a superare le nostre barriere mucose, diciamo riesce a bypassare il nostro sistema di immunità innato, che funziona bene d'estate e meno bene d'inverno, e quindi riesce a dare più infezione e soprattutto riesce a dare, diciamo, clinica, quindi dei casi più o meno sintomatici. Io mi aspetto un'importante circolazione del virus, ma con un minor numero di casi ospedalizzati, un minor numero di decessi, perché sicuramente questo vaccino è un vaccino importante. È vero che purtroppo fa circolare questa variante Delta, che è la variante ormai predominante in Italia, in Abruzzo, eccetera, però è pure vero che ci offre un grande vantaggio, che non ci fa morire, e già è tanto.